Sta entrando nel vivo grazie anche al miglioramento delle condizioni meteo e soprattutto sta entrando nel vivo per quanto riguarda i grandi appuntamenti. Quindi ci stiamo preparando al ritiro della Nazionale Italiana di Basket, all'arrivo del Lecce Calcio e del Cittadella, la prima gara dei campionati italiani di Schirol qui sull'Alpecimbra, quindi sarà ancora una lunga stagione di sport. Abbiamo raddoppiato la proposta per quanto riguarda i bike park, quindi al bike park di Lavarone dedicato a chi ama il downhill e l'enduro. Oggi si affianca l'offerta del Folgaride per chi ama invece i percorsi flow, quindi più semplici e adatti a tutte le tipologie di bikers. Sarà una stagione molto lunga perché consideriamo la fine dell'estate in realtà con ottobre, quindi con il grande evento della Brava Park, questa grandissima rievocazione storica che verrà a sfilare oltre mille abitanti dell'Alpecimbra con i costumi storici dell'epoca, quindi la rappresentazione degli antichi mestieri, la dispensa dell'Alpe che metterà proprio sotto i riflettori produttori a chilometro zero. Ma sono veramente tantissime le iniziative che ogni giorno si svolgono qui sul territorio dell'Alpecimbra e lo ricordo sempre, le trovate tutte sul sito alpecimbra.it per quanto riguarda tutte le attività trekking, mountain bike, orienteering, uscite culturali, notturne al forte, albe in Malga sul sito Alpecimbra nella sezione esperienze.